bella a tutti ragazzi qui TGD che mi era Andrea e benvenuto in questo nuovo video che dire sono tornato dalle vacanze e ora eccomi che con un nuovo video allora in questo video riguarda una Cleo, una Cleo 4 per la precisione ovvero il Fly Uncoco 2 allora questo è il sito del download, scarichiamo tutto e avremo questo, questo mirror apriamo ok allora qui abbiamo il file Cleo e qui le info, allora bisogna attivare per attivare la mod bisogna appicciare HP2 mentre si sta saltando e si può regolare anche la velocità con Q e D allora noi lo costruiamo, Dextro, ok chiudiamo, facciamo taglia, mettiamo nella nostra scala GTA, GD, GD, on Cleo ok, ora chiudiamo e che dire vi faccio vi faccio vi faccio vi faccio vi faccio vedere, come funziona, ok ora sto entrando ragazzi, bello ci si vede tra l'altro di seconda, bene ragazzi eccoci di nuovo qui, eccoci qui, ora noi pigiamo HP2, dice appare chat active, e ora noi vogliamo, come si pare, ecco, eccoci qui, ora noi pigiamo HP2, dice appare chat active, e ora noi vogliamo, come si pare, eh, beh però... accidente.... però io però come faccio? però io però, come faccio? Ora va, infatti non mi tornava, come potete vedere sto volando alla Hancock, gambe all'aria, ecco, la, funziona benissimo, ecco, ora sono morto, sto ancora volando, ora sono tutto rispommato, a moment, ecco, di nuovo morto, eccoci qua, e che dire ragazzi, ultime news, mi sono ristallato cod finalmente, grazie al mio amico Anthony che saluto e ringrazio, e poi, che dire, niente, e che dire, ultimamente sono andato a far parte del clan Cry, il clan di Saiko, non so se lo conoscete, e ora, diciamo, siamo amici, e niente ragazzi, dai, ci si vede alla prossima, grazie di tutto per aver visualizzato questo video, il download lo trovate nella descrizione, e niente, dai, bella a tutti raga, grazie a tutti